Buongiorno, benvenuti, grazie di essere qua. Io sono Giacomo Giannarelli del Movimento 5 Stelle Toscana, sono presidente della commissione d'inchiesta sullo scandalo Monte dei Paschi di Siena e sono presenti con me il vicepresidente di commissione Marras del Partito Democratico, il vicepresidente segretario della Lega Borghi e il commissario Fattori di Sito Toscana a Sinistra. Siamo qui oggi per rendere pubblico il lavoro della prima commissione d'inchiesta nella storia, istituita sul più grande scandalo finanziario d'Europa. Uno scandalo che è avvenuto qua in Toscana e riguarda la banca più antica del mondo, il Monte dei Paschi di Siena. Uno scandalo pagato, come sempre, dai cittadini, dai piccoli risparmiatori, dai lavoratori dipendenti dell'Istituto, dalle piccole imprese e famiglie a cui è stato ridotto il credito, da tutta la comunità toscana italiana, che è stata privata di una ricchezza di circa 50 miliardi di euro. Questa commissione nasce nel luglio 2015, per volere del Movimento 5 Stelle, ed è stata istituita con il sostegno delle forze di opposizione. La nostra commissione ha iniziato i lavori il 9 settembre, operativamente, dell'anno scorso. Abbiamo effettuato 22 sedute, l'ultima il 28 luglio, nel corso delle quali 31 persone informate sui fatti sono state audite dai commissari. Abbiamo ricevuto risposta scritta alle nostre domande da tre convocati, uno dal Presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Antonella Mansi, dall'attuale Governatore della Banca d'Italia, Visco, e dal finanziere, Serra. Ci sono pervenute alcune informazioni scritte da cinque procure della Repubblica, impegnate nell'accertamento dei fatti o in procedimenti già attivi sullo scandalo Monte dei Paschi, dalle procure di Siena, Firenze, Trani, Roma e Milano. Alle testimonianze rese da questi protagonisti della vicenda, la Commissione ha unito la lettura di svariati documenti, testi, di numerosi articoli di stampa e, soprattutto, di autorevoli documenti consegnati anche dagli auditi. Dobbiamo anche comunicare i nomi di chi non ha accettato di venire in Commissione a dare un contributo per la ricostruzione della vicenda. E, a tal proposito, devo condividere con voi i nomi dei convocati che non si sono presentati. Ed è particolarmente pesante il diniego ricevuto a comparire dai rappresentanti istituzionali politici. In particolare, hanno rifiutato di comparire il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, l'ex Presidente Claudio Martini e l'ex Presidente del Consiglio regionale, Alberto Monaci. Hanno rifiutato Ceccuzzi, Grilli, Tremonti, Saccomanni. Delle figure apicali presenti e passate dalla banca, come lo stesso Viola, Tononi e Profumo. Non è venuto e non ha voluto rilasciare risposte scritte, Vegas di Consob. Ringrazio l'aiuto importante fornitoci dagli uffici di assistenza generale alla Commissione, dalla dottoressa Cecilia Toseto, Alberto Nistri, Sandra Mancini, Ilaria Cirelli e dalla nostra Gemma Pastore. E ringrazio tutti gli uditori e collaboratori dei gruppi consigliari presenti. Perché la Commissione? Perché abbiamo istituito questa Commissione? Abbiamo sentito la necessità di attivare un organo istituzionale per indagare e ricostruire i fatti che hanno portato al distesto finanziario della Banca e della Fondazione in modo da conoscere il passato e presente per evitare di ripetere errori che hanno minato e stanno tuttora minando la credibilità del sistema Paese e la dinamicità della nostra economia. Il disastro del Monte dei Paschi di Siena rappresenta un punto di non ritorno dell'intero sistema bancario. Quanto avvenuto non è successo per caso e, se ben compreso, potrebbe dare una grande lezione dalla quale ripartire. Questa Commissione d'inchiesta, con i limiti dei suoi poteri conferiti, non siamo una Commissione d'inchiesta parlamentare, si è posto l'obiettivo di raccogliere un quadro conoscitivo aggiornato su quanto accaduto, tentare di identificare le responsabilità politiche e definire alcune proposte di indirizzo. La Commissione ha accertato gravi responsabilità della politica nel gestire le risorse e il patrimonio della fondazione e della banca più antica del mondo. La Commissione ha accertato gravi intrecci di poteri forti, non democraticamente rappresentativi, che hanno causato danni economici e risparmiatori e minato la stabilità dell'erogazione del credito alle imprese. La Commissione ha accertato gravi responsabilità degli organismi di controllo, quali Banca Italia, Consob, Ministero del Tesoro, BCE. Vorrei condividere con voi alcuni numeri molto interessanti che dovrebbero fare riflettere. Il 1472 è l'anno di nascita delle monete dei Paschi, una banca che oggi ha 544 anni. 50 miliardi di euro è il valore perso dalla privatizzazione della banca con la riforma voluta da Amato Ciampi del 1990 e poi, privatizzazione che avvenne dal 1995. Dal 1995 ad oggi la banca ha perso 50 miliardi di euro. 47 miliardi di euro sono la montare dei crediti deteriorati lordi della banca Monte dei Paschi di Siena. Di questi crediti deteriorati, circa il 60% sono prestiti oltre un milione di euro. quindi operazioni effettuati o da grandi gruppi o da grandi enti pubblici. In dieci anni, dal 2006 ad oggi, il titolo della banca è sceso del 99,73%. circa dieci anni fa il valore dell'azione era superiore ai 100 euro. 9,25 miliardi di euro è il prezzo che Banca Monte dei Paschi pagò a Banco Santander per comprare la banca Anton Veneta, a sua volta acquistata pochi mesi prima da BN Amro per 5,7 miliardi di euro. Quindi si comprò una banca a un prezzo molto più alto del suo reale valore, con una plusvalenza per il Banco Santander di 3,5 miliardi di euro. 18 miliardi di euro è il costo complessivo dell'operazione Anton Veneta, prezzo dell'acquisto più il debito contratto da BN Amro. Quindi il costo complessivo è stato di 18 miliardi di euro. Un'operazione approvata da Banca Italia, quando all'epoca il governatore era Mario Draghi, approvata il 17 marzo del 2008, senza aver fatto un controllo analitico del reale valore della banca, senza la cosiddetta due diligence. 1,6 miliardi di euro è la cifra che la banca ha raccolto con l'emissione dei bond a scadenza 2018. Questa emissione doveva contribuire al pagamento della banca Anton Veneta, perché la banca Monte dei Paschi stava effettuando questa operazione senza veri soldi. Sono state emesse obbligazioni con tagli minimi da 1.000 euro per renderle accessibili ai piccoli risparmiatori. E infatti 40.000 risparmiatori hanno acquistato bond per l'operazione Anton Veneta, con scadenza 2018. 8.000 è il numero degli esuberi indicato nel piano di risanamento del Monte dei Paschi di Siena entro il 2017. Ricordiamo che 1.030 esuberi sono già stati effettuati, sono stati esternalizzati dipendenti alla Fruendo SRL. E 550 milioni è il valore attuale della Monte dei Paschi in borsa in data 21 settembre, con il valore del titolo a 0,19 centesimi di euro. Un altro dato ultimo sul quale fare una serie di riflessioni sono 8 miliardi le cifre complessive degli ultimi due aumenti di capitali bruciati dal mercato, aumenti di capitali effettuati di recente, nel 2013 e nel 2015. Oggi siamo qua a presentare le due relazioni conclusive, perché sono due le relazioni entrambe votate a maggioranza. La nostra, come Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Sito Scanna a Sinistra, ha ottenuto l'astensione del Partito Democratico, ringrazio Marras, che ha riconosciuto il valore del lavoro svolto, e quella del Partito Democratico, che è stata votata da solo PD con l'astensione degli altri commissari. Merita velocemente entrare nel merito delle due relazioni, soprattutto parlerò di quegli elementi che ci hanno diviso. Al primo punto è un aspetto non secondario, la cosiddetta senesità. Noi abbiamo rilevato che l'aspetto della senesità è un aspetto importante della vicenda, ma non centrale. Non vogliamo fare ricadere quanto accaduto ai senesi. È un aspetto che è stato centrale quando vennero fatte operazioni spericolate, senza seguire il principio della sana e prudente gestione del patrimonio, per esempio, della Fondazione, con questa estrema volontà di mantenere il controllo, quello sì, prevalentemente a Siena, della Fondazione, con l'accanimento del mantenere il 51% delle quote e delle azioni della Banca Monte dei Paschi. Il secondo aspetto che ci ha diviso è la cosiddetta spy story. Noi abbiamo certato in questa banca che ci fu e c'è tuttora un preoccupante intreccio di poteri forti, quali massoneria, opus dei, altri circoli ristretti, che hanno contribuito sostanzialmente a determinare alcune scelte della vicenda. E sono preoccupanti alcuni episodi delle cosiddette porte girevoli, come non ricordare oggi Grilli. Grilli fu all'epoca del governo Monti, il ministro dell'Economia e delle Finanze, colui sotto il quale avvenne l'operazione dell'acquisto della Banca Anton Veneta, e oggi lo troviamo ai vertici della banca privata JP Morgan. Non possiamo non ricordare il governatore Draghi, che all'epoca era ai vertici l'organismo di vigilanza Banca Italia, ma venne da un'esperienza in Goldman Sachs. E non possiamo non accennare, e quindi entro nel merito della relazione Movimento 5 Stelle e Lega, Sintoscana, per poi passare la parola ai miei colleghi commissari Borghi e Fattori, per poi fare chiudere a Marras. Non possiamo oggi non entrare in una delle vicende, forse la più importante, che ha contribuito al dissesto finanziario della banca più antica del mondo. Noi nella nostra relazione abbiamo trattato anche altre operazioni, altre operazioni cosiddette sistemiche, operazioni quando la banca veniva concepita come polo aggregante, che venivano fatte fare alla banca determinate operazioni per accrescere la sua presenza nel sistema bancario. Abbiamo parlato dell'acquisto di banca agricola mantovana, della banca del Sarento, banca 121, e vi invito a leggere le relazioni, e sono trattate puntualmente in questa relazione. Per oggi merita spendere due parole su quanto avvenne con la banca Anton Veneta, perché quanto è successo è estremamente attuale e rappresenta una fotografia del nostro sistema paese. Perché i protagonisti in quella vicenda sono diversi. Abbiamo accertato che venne sacrificata la banca, sembrerebbe per salvare gli interessi di un banchiere vicino agli interessi del Vaticano, Emilio Bottini, banchiere di Banco Santander. Venne spinta la banca Monte dei Paschi di Siena a comprare a scatola chiusa una banca che valeva molto meno di quanto realmente è stata pagata. In questa operazione si intrecciano quindi poteri più o meno occulti, più o meno appartenenti alle sfere di cui si faceva accenno prima. Ricordiamo che tutti sapevano di questa operazione, ma nessuno mosse un dito. Né il Ministero delle Economie e Finanze impedì alla Fondazione di indebitarsi così tanto fino a dilapidare più del 90% del suo patrimonio per sostenere questa operazione, né Banca Italia con a capo Mario Draghi impedì che questa operazione ebbe compimento, né Consob intervenì per tutilare i risparmiatori. Ricordiamo che i 40.000 risparmiatori sono molti di più che hanno obbligazioni a Monte dei Paschi, ma in particolare quei 40.000 risparmiatori che al 2018 non sanno se le loro obbligazioni verranno trasformate in azioni e quindi se saranno oggetto del trasferimento di questa ricchezza per ripianare i buchi della banca. Un altro elemento che ci ha diviso è stato il fatto che noi rileviamo una estrema continuità con il passato nel gestire questa vicenda. Oggi il Presidente del Consiglio Renzi dice fuori la politica dalle banche, ma è lui stesso per primo a dare indicazioni per fare di mettere viola e per scegliere persone a lui vicine. Per noi questo è inaccettabile, per una persona che non è stata eletta da nessuno e non ha ricevuto un mandato parlamentare. Noi siamo soci come Repubblica Italiana della Banca Monte dei Paschi con il 4% attraverso il Ministro del Tesoro ed è bene che queste procedure vengono fatte alla luce del sole, in estrema trasparenza. Ci ha diviso il rilevare quello che è emerso. Secondo noi abbiamo fatto un ottimo lavoro nell'unire tanti tasselli noti che ci hanno fatto emergere un mosaico, un'immagine del nostro Paese che è venuta fuori unendo i vari puntini di cose note sì, ma non era mai stato fatto un lavoro organico di unione dei vari tasselli di questa vicenda, che ripeto rappresenta la fotografia del sistema Paese. Chiudo con l'altro elemento che ci ha diviso, sono anche le proposte sulle quali dopo entrerò nel merito puntualmente. Una cosa che ci preoccupa molto è che in queste vicende per l'ennesima volta chi paga, chi ha pagato e continuerà a pagare sono i risparmiatori e la comunità toscana italiana che è tenuta sotto scacco da queste operazioni. Viene usata per operazioni sistemiche, per interessi non facilmente comprensibili ai più. Sono state fatte operazioni al limite del lecito. Noi ricordiamo l'intervento della Procura di fine 2015 quando obbligò la banca a scrivere a bilancio degli strumenti che erano dei derivati e non dei titoli di Stato. Con questo aggiustamento del bilancio noi sappiamo che almeno fino al 2015 quel bilancio della banca era falsato. Così emerge l'intervento della Procura. Ed è molto preoccupante perché la banca in passato si è rivolta al mercato ha fatto ricapitalizzazioni con un bilancio non veritiero. Conclusioni. Noi abbiamo potuto scrivere nero su bianco che la banca Montelepaschi istituto totalmente controllato da nomine di origine politica in cui trovavano posto certo la maggioranza riferibile al PD ma anche accomodanti opposizioni PDL in particolare mi riferisco all'area Verdini-Letta veniva utilizzata da tempo come pagatore per operazioni di aggregazione di interesse politico come Banca del Salento Banca Agricola Mantovana sia come erogatore di fidi prestiti a imprenditori amici vi invito a leggere il capitolo sui crediti deteriorati su questo aspetto degli elargizioni facili a imprenditori vicini al partito presumibilmente per utilità i cui beneficiari sono tuttora occulti e in cui in un'ottica distorta che vede il sistema bancario europeo come un sistema di vasi comunicanti per risarcire il banchiere Emilio Bottin del Santander dalla perdita sostenuta con l'operazione intesa San Paolo Monte dei Paschi viene indotta ad acquistare a prezzo esorbitante la banca Anton Veneta senza alcuna due diligence quindi senza una valutazione tecnica del suo reale valore Monte dei Paschi fu sacrificato e fu salvato il banchiere vicino alla finanza cattolica e all'Opus Tei fondatore del Banco Santander l'acquisizione effettuata a prezzo insostenibile e prima di un severo peggioramento della situazione economica italiana infligge un colpo mortale alla banca che tenta di occultare l'ammanco di capitale ricorrendo a prodotti derivati e ad altre manipolazioni che ne falsano largamente il bilancio sulla base di bilanci falsi vengono indotti all'investimento migliaia di cittadini e di istituzioni per mezzo di numerosi aumenti di capitale il valore della banca precipita sino a quando sino a quasi ad azzerarsi trascinando con sé il valore del patrimonio della fondazione un incredibile intreccio di colpe per l'omesso controllo dagli organi di vigilanza e operazioni spericolate dei vertici di banca e fondazione da questo seme cattivo presero poi le mosse spericolate operazioni con contratti derivati tese ad occultare la reale situazione patrimoniale della banca e che in aggiunta miliardi di prestiti concessi alle granuente hanno condotto all'attuale situazione noi abbiamo potuto scrivere nero su bianco che stava bene a tutti stava bene a tutti il groviglio armonioso degli interessi della politica dell'opus Dei della masoneria pensavano che il portafoglio del Monte dei Paschi fosse un pozzo senza fondo da cui attingere ma anche il pozzo più profondo può essere prosciugato ed ecco che quello che non fecero guerre e calestie in lunghissimi secoli riuscì ad un partito in particolare al partito democratico la distruzione della più antica banca del mondo noi abbiamo potuto infine scrivere che il Parlamento valuti l'opportunità a procedere con alcune indicazioni quindi ora rimandiamo la palla anche al Parlamento nella nostra relazione abbiamo ritenuto opportuno che il Parlamento con una serie di discussioni in aula valuti l'opportunità di una nazionalizzazione della banca Monte dei Paschi con l'integrale e tutela dei risparmiatori chiediamo una riforma di Banca Italia in istituto di diritto pubblico le cui quote inalienabili dovrebbero essere detenute solo dallo Stato italiano per eliminare ogni tipo di conflitto di interesse chi lavora in Banca d'Italia non dovrebbe né lavorare né fornire servizi di consulenza o altro tipo agli istituti sotto vigilanza diretta o indiretta per un periodo non inferiore a cinque anni in attuazione del criterio della separazione delle carriere per evitare le cosiddette porte girevoli è inaccettabile vedere i soggetti che un giorno prima si trovano nei ruoli apicali delle istituzioni pubbliche e nei giorni dopo li troviamo nei ruoli apicali delle banche questo è inaccettabile chiediamo una riforma della Consob la Consob dovrebbe assicurare la tutela dei risparmiatori e la trasparenza sui mercati finanziari i dirigenti Consob non dovrebbero né lavorare né fornire servizi di consulenza o altro tipo agli istituti o alle imprese sotto vigilanza diretta o indiretta per un periodo non inferiore a cinque anni ripristino della separazione tra banche d'affari e banche commerciali di credito risparmio riforma delle fondazioni bancarie con la previsione di uscita dall'azionerato delle banche noi abbiamo potuto chiedere che il Consiglio regionale si occupi anche dei rapporti tra Regione Toscana e Banca Monte dei Paschi fino alla trattata come banca di sistema nonostante non sia più pubblica da più di vent'anni e in conseguenza chiediamo al Consiglio regionale una riforma seria di Fidi Toscana valutando l'opportunità di un fondo interamente pubblico considerando il fatto che Fidi Toscana ha visto crescere mostruosamente le sofferenze in dieci anni anche derivando dal fatto della presenza del socio privato Monte dei Paschi all'interno della compagine societaria di Fidi infine abbiamo potuto scrivere che la Commissione inviti la Regione Toscana a richiedere al Parlamento l'attivazione di una commissione d'inchiesta parlamentare sui fatti oggetto della presente relazione noi abbiamo avuto dei grandi limiti proprio per la natura stessa della Commissione d'inchiesta regionale ed è per questo che chiediamo l'attivazione di una commissione d'inchiesta parlamentare che ha pieni poteri di indagine per accertamento della verità su quanto è accaduto chiudo mi permetto solo un ultimo passaggio gli ultimi fatti su Monte dei Paschi di Siena raccontano in modo chiaro che non ci sia alcuna discontinuità con il passato e chi non sa imparare dal passato è condannato a ripetere gli stessi errori nel futuro è inaccettabile l'attuale presenza dei partiti nella gestione della fase attuale ancora più grave è che questa delicata fase venga gestita da un Presidente del Consiglio non eletto da nessuno l'attuale approccio del Governo alla situazione in essere appare inappropriato in continuità con quanto accaduto in passato a gennaio 2016 ricordo a tutti che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi suggeriva in diretta tv di acquistare azioni Monte dei Paschi perché era una banca sana da allora oggi da gennaio ad oggi le azioni Monte dei Paschi hanno perso circa il 60% del loro valore ancora una volta si sono ingannati gli spalmiatori così come accade in occasione degli aumenti di capitale ideati per coprire buchi che però hanno finito con inghiottire di nuovo il denaro degli spalmiatori che si sono fidati in quel sistema l'unica cosa certa è che a pagare il prezzo più alto anche questa volta saranno i cittadini e quello che è successo è che è rilevante da un punto di vista politico è che la distruzione dell'economia di un territorio e questa responsabilità quello che è importante è la distruzione dell'economia di un territorio è stata distrutta l'economia reale queste sono le vere conseguenze del dissesto finanziario della banca e questa responsabilità è in capo a chi lo ha gestito negli ultimi 25 anni i principali partiti del cosiddetto centro-sinistra democratici di sinistra oggi il partito democratico in testa ma anche forze del cosiddetto centro-destra come il popolo della libertà specie nella sua componente ex Forza Italia legata a Danesio Verdini che oggi appoggia il governo Renzi lo scandalo Montedepaschi è una vicenda toscana dai riflessi internazionali scusate è una storia che descrive la particolare realtà regionale e nazionale costituita da intrecci di poteri forti tutt'oggi presenti di lotte di potere tra partiti di scelte clientelari e non meritocratiche ricordiamo una per tutte la nomina di Mussari Mussari venne scelto per appartenenza partitica non per competenze lui stesso dichiarò nel suo libro di non capire nulla sui derivati e venne prima messo a presidente della fondazione e poi premiato con la presidenza della banca quindi lotte di potere tra partiti di scelte clientelari non meritocratiche di eterne contrapposizioni tra un campanilismo localistico e l'esigenza all'internationalizzazione e alla globalizzazione la cronostoria dei fatti apri ad alcune riflessioni di più ampio espiro accertati di intrighi sovranazionali sovranità monetarie e sovranità popolari messe in discussioni e cedute a nuovi organismi istituzionali e non istituzionali è inaccettabile l'intervento della banca Goldman Sachs sul referendum costituzionale dalla caduta nel muro di Berlino alla legge Amato sulle fondazioni dalle privatizzazioni dei settori strategici statali alla privatizzazione della banca d'Italia iniziate sotto il governo Amato Ciampi dalla banca del territorio alla banca di sistema dall'economia reale all'economia della finanza creativa col mito della crescita infinita questa commissione offre un'opportunità e questo che dobbiamo capire offre l'opportunità di parlare nuovamente di quanto è successo alla banca più importante del sistema del credito toscana alla banca di importanza sistema nazionale per conoscere il passato e il presente per prevedere per quanto possibile il futuro imparando dagli errori per evitare di ripeterli vi ringrazio ora nel dibattito passerò la parola ai colleghi Tommaso Fattori Claudio Borghi vi passerei la parola a Claudio Borghi come vice segretario vice presidente segretario della commissione di inchiesta poi Tommaso Fattori passerò la parola a Leonardo Marras per illustrazione della loro relazione conclusiva vi ringrazio ancora grazie presidente di cosa stiamo parlando qua stiamo parlando di una storia che al momento non ha visto colpevoli purtroppo il fatto che questa storia non abbia visto colpevoli finora è un segno di gravissima deficienza dei sistemi di controllo della regione e del sistema bancario italiano e anche dello Stato tutto perché se noi valutiamo il danno come ha detto Giannarelli prima in 50 o 40 c'è un'alea di stima ma in ogni caso stiamo parlando di un ordine di grandezza che è iperbolico stiamo conservativi diciamo 40 miliardi bene se questo 40 miliardi fosse concretizzato in una distruzione di valore reale non so pensate a case che crollano ecco un crollo di abitazioni pari a un valore per abitazione di 40 miliardi significherebbe rasare al suolo un'intera città ma sono i terremoti che rasano solo una città in questo caso invece sono delle scelte di persone quindi significa che ci sono delle scelte personali che hanno provocato un danno superiore a quello che può essere un distruttivo terremoto ora è mai possibile che un danno di questo tipo non conduca delle responsabilità anche astrattamente di tipo colposo non sapevamo cosa fare è successo ma se anche uno col gomito facesse cadere il vaso che va a finire sulla dinamite e poi dopo l'esplosione azzera 40 miliardi di valore e qualcosa succede no non è successo niente e questo indica le responsabilità di in sequenza chi ha nominato i responsabili perché ogni decisione è stata presa ed avvallata da degli organi competenti e dalle persone che in questi organi sedevano che sono stati nominati in questo caso in grande maggioranza da organi politici quindi nessuna responsabilità di chi è stato l'autore materiale del danno due nessuna responsabilità da parte che almeno questo politicamente dovrebbe essere ascritto da parte di chi all'epoca era in consiglio o nelle opposizioni per far notare le anomalie perché il lavoro delle opposizioni così come lo stiamo facendo in questa in questa legislatura è quello di denunciare qualcosa che non va all'epoca chi lo fece? Lo fece la Lega Nord incidentalmente lo cito perché insomma è un merito anche dei ragazzi di Siena che portarono in procura in tempo reale la denuncia per quello che stava accadendo con l'operazione Anton Veneta venne fatta dai ragazzi della Lega di Siena portata dal loro parlamentare Borghezio e depositata in procura ecco di questa denuncia si fece spessore per il tavolino perché non risulta che vi sia stato nessun seguito a tale denuncia purtroppo all'epoca avevamo una voce bassa qui in regione non abbiamo l'opportunità che abbiamo adesso di farci sentire grazie al consenso dei cittadini all'epoca non avevamo la capacità o la forza di poterci far sentire e quindi anche l'opposizione ha fallito perché c'era una consociatività andava bene anche evidentemente a molti dell'opposizione dell'epoca questo questo sistema c'è una carenza della magistratura che non ha citato Giannarelli e che cito io perché se ricevi una una denuncia o anche senza dover ricevere una denuncia sono tanti gli articoli di giornale dell'epoca che evidenziavano l'anomalia enorme di quell'operazione e non dai seguito poi dopo il danno diventa irreparabile perché come ha testimoniato poi l'audito mondani quando abbiamo cercato di indagare su questa lista di bonifici che poi perché è poi la cosa incredibile insomma questi 17 miliardi pagati con bonifico con delle modalità e poi li troverete insomma nella relazione assolutamente sbalorditive con 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 che 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 chiama il tesoriere gli diceva ci sarebbe da trovare un altro 10 miliardi perché non sapevo del debito il tesoriere dice ma come mancano 10 miliardi e sì vediamo di trovarli cioè voi capite no l'assurdità di tutta di tutta la situazione ecco la procura non ha fatto niente le indagini che in questo momento noi stiamo vedendo e gli processi che sono in conclusione sono relativi a questo successo dopo i derivati per occultare questa situazione ma il vulnus originale cioè vale a dire le indagini che potevano essere fatte per capire a chi andavano questi bonifici chi si abbeverava a quel pozzo senza fondo sono state lasciate nel nulla e poi infine richiamata più volte la responsabilità clamorosa di Banca d'Italia che in quanto organo di vigilanza e quindi deputato da parte dei cittadini di vigilare sul sistema bancario proprio perché queste cose non succedano invece ha messo il suo timbro sull'operazione ha messo il suo timbro sull'operazione perché l'ha messo? la spiegazione potrebbe venire proprio da questo intendere il sistema bancario come un sistema di vasi comunicanti dove in ogni caso bisogna si toglie uno ma si dà un altro come se non ci fossero difficoltà c'era da far recuperare i miliardi persi dal Santander e quindi dal dal signor Bottin che le aveva persi con l'operazione banca intesa San Paolo e quindi dato che bisognava fargli recuperare quei soldi si è scelto una cassa da cui attingere un pozzo appunto da cui attingere è peccato che poi dopo il pozzo è stato prosciugato a fonte di tutto questo elenco di responsabilità non punite dove stiamo andando in termini di pagamento finale? stiamo andando verso il pagamento dei risparmiatori cioè questi miliardi spariti sono innanzitutto spariti ai danni della comunità di Siena che si ritrova depauperata della banca che ha costruito coi secoli ma la cristallizzazione della perdita è nell'azzeramento del valore delle azioni che erano in tasca a decine di migliaia se non di più di incolpevoli cittadini risparmiatori che credevano nella loro banca del territorio e quindi già questo è un danno già fatto quel 99,3% di calo del prezzo delle azioni inclusive di tutte le iniezioni successive di aumento di capitale che sono state fatte è un danno devastante per l'economia italiana e per i portafogli di quei risparmiatori che nella banca hanno creduto sulla base di informazioni che si rivelevano essere false e adesso dove stiamo andando? Stiamo andando verso la beffa finale vale a dire l'azzeramento o in generale il coinvolgimento degli obbligazionisti vale a dire risparmiatori che non solo non avevano la caratteristica diciamo di condivisione del rischio aziendale ma che avevano fatto un contratto con la banca erano creditori della banca l'obbligazionista anche subordinato è creditore della banca bene vedete la orribile asimmetria di chi ha un debito nei confronti della banca e in certi casi si vede la vita rovinata a furia di cartelle ingiunzioni pagamenti e così questo tipo ma se invece di avere un debito un cittadino ha un credito in questo caso rischia di venirsi volatilizzato il proprio credito ope legis perché quello che stanno meditando di fare in questo momento è una conversione in azioni ma questa conversione in azioni porterà all'azzeramento del valore delle azioni medesime perché nel momento stesso in cui queste azioni diventeranno vendibili tutti cercheranno di monetizzare e il valore delle azioni sul mercato anche ormai parlando di decimali e di virgole sarà azzerato ulteriormente ecco responsabilità precise cristallizzate nella nella relazione chi paga un soggetto che non c'entrava nulla e che ancora adesso rischia di essere chiamato come responsabilità non va bene grida vendetta e quindi noi per quello che è il nostro potere abbiamo cercato appunto di fare un lavoro soprattutto di messa in ordine di tante informazioni slegate e e divise in modo tale che siano chiaramente leggibili adesso ovviamente la palla aspetta chi ha più potere di noi non si può ritornare alle indagini che si sarebbero potute fare in diretta se certi segnali fossero stati colti al volo ma almeno provare per dignità per dignità di uno Stato andare a cogliere quali furono le vere responsabilità le vere responsabilità sarebbe doveroso e farebbe un buon servizio ai cittadini e a chi ha visto un patrimonio così prezioso come era la più antica banca del mondo finire a zero Tommaso Fattori Capogruppo Sì Toscana Sinistra sono stati compiuti molti errori e disastri il punto è che si stanno continuando a compiere errori e disastri in particolar modo quella forma politica consociativa che ha utilizzato Monte dei Paschi di Siena come un bancomat per erogare crediti a persone che non potevano restituirli quei crediti che quindi non davano le sufficienti garanzie arrivando ad accumulare una vera e propria montagna di crediti deteriorati 50 miliardi circa diciamo di euro quella stessa forma politica consociativa che ha ha promosso e ha vallato l'operazione di acquisto Anton Veneta ad un prezzo assolutamente folle e comunque fuori dal mercato quella stessa politica oggi sta avviando Monte dei Paschi verso il Beilin quindi arrivando a far pagare quegli errori e quei disastri agli azionisti agli obblogazionisti e ai risparmiatori io credo che questo sia il punto anche il punto della famosa telefonata arrivata da Padoan a Viola per farlo dimettere e ho l'impressione che se vogliamo dare un senso anche al lavoro di una commissione che non ha appunto i poteri di inchiesta una commissione parlamentare è proprio quella di capire in che direzione andare quindi capire quale lezione trarre da questa vicenda per guardare avanti io lo dico subito abbiamo la sensazione netta che non ci sia nessun'altra strada che non quella della nazionalizzazione di Monte dei Paschi di Siena cioè serve l'immissione di denaro pubblico serve diciamo così la necessità di andare in Europa e dire chiaramente che vogliamo una neroga rispetto alla possibilità appunto di utilizzare fondi pubblici quindi non si deve applicare il bail-in non possiamo permetterci che la terza banca italiana finisca o nelle mani diciamo di un circuito speculativo e quindi in mani straniere per un verso e appunto soprattutto non possiamo permetterci che si vada verso il bail-in io lo dico chiaramente perché è inutile diciamo così almeno fra noi chiarirci su questi punti io sono assolutamente certo che non esiste oggi nessuna soluzione sul mercato privato del credito cioè oggi non esiste qualcuno che acquista MPS perché non c'è nessuno che ha 5 miliardi di euro per ricapitalizzare MPS sul mercato privato del credito e non c'è nessuno che è in grado diciamo così di assorbire i non performing loans cioè i crediti deteriorati che sono una cifra enorme quindi è evidente che anche l'operazione che sta dietro alla vicenda JP Morgan è una intelligente operazione io credo sia legata a un favore politico al nostro presidente del consiglio Matteo Renzi cioè qui si come dire cerca di spostare a dopo il referendum la vicenda però è evidente sappiamo bene che JP Morgan non ha in realtà affermato nessun interesse ovviamente all'acquisto tra l'altro la banca non è una banca retail quindi semmai farebbe da ponte ma non esistono capitali e semmai se qualcuno avesse interesse a prendere MPS di sicuro aspetterebbe il bail-in per poi comprarla a un prezzo stracciato quindi noi ci troviamo diciamo davanti a una situazione tale per cui la politica deve assumersi in maniera trasparente una responsabilità davanti alla terza banca italiana a ciò che significa non solo per l'economia toscana ma per l'economia nazionale i posti di lavoro e tutto ciò che sappiamo essere legato da MPS e assumersi oggi questa responsabilità e dirci chiaramente ciò che appunto ha finito di dire cioè che non esiste una soluzione di mercato esiste soltanto l'affossamento di MPS e dobbiamo intervenire finché possiamo intervenire nella direzione della nazionalizzazione e badate che questa parola è una parola che negli Stati Uniti nessuno ha avuto problemi a utilizzare e Barack Obama non ha avuto problemi a nazionalizzare Bank of America nel momento in cui occorre poi si può aprire una discussione politica se deve essere una nazionalizzazione diciamo a tempo per poi rimettere MPS sul mercato oppure se deve essere una soluzione diversa io so di essere minoranza e in questa seconda direzione io sono convinto che in questo paese servirebbe ancora la banca pubblica per fare politiche economiche politiche industriali sappiamo benissimo che ci sono molti paesi che questa scelta l'hanno fatta e l'hanno fatta anche diciamo a mio parere con successo ma capisco che questa è una discussione diversa da quella che stiamo conducendo oggi quella che stiamo conducendo oggi è cercare di capire come non continuare a ripercorrere gli errori che sono stati già fatti in passato chiudo velocemente dicendo che è evidente che da una parte sono questi errori lo abbiamo detto e ripetuto dall'altra parte c'è anche il fatto che chi avrebbe dovuto controllare non ha controllato le responsabilità enormi di Banca d'Italia le responsabilità enormi della Consob ricordava adesso collega Borghi anche in parte della magistratura stessa della procura ma vorrei dire qualcosa anche sul ruolo marginale della stessa istituzione regionale diciamo Giunta e Consiglio che diciamo potrebbe essere visto come un fatto positivo uno dice bene è accaduto il disastro non ci sono responsabilità dirette di questo Consiglio cioè dello scorso Consiglio diciamo e della Giunta però può essere letta e io tenderei a leggerla anche dall'altra parte cioè ciò che probabilmente si sarebbe potuto fare in maniera trasparente non è stato fatto quindi una commissione come la nostra che non ha poteri di indagine come quelli della magistratura come avrebbe una commissione di indagine parlamentare che non a caso non è stata istituita la commissione parlamentare ha fatto ciò che ha potuto ma si istituisca finalmente una commissione parlamentare e questo penso che sia anche una domanda politica forte e legittima che come dire solleviamo dal Consiglio regionale toscana verso il Parlamento e qui dico soltanto una battuta perché riferita così passo poi la palla al capogruppo Marras perché il punto di fondo non è diciamo quello non so come dire della io la metterei così e il punto è della relazione opaca fra la politica e in questo caso il mondo bancario privato perché sentivo Leonardo che prima diceva beh non è possibile che critichiate proponendo la nazionalizzazione una gestione sbagliata da parte della politica e poi proponete di nazionalizzare cioè di mettere il 100% di Monte dei Paschi in mano al pubblico io penso ci sia un punto di fondo Leonardo cioè che nel momento in cui proponiamo un'opzione come quella della nazionalizzazione proponiamo una strada trasparente che significa il coinvolgimento del Parlamento indirizzi trasparenti che il Parlamento eletto dai cittadini deve dare significa indirizzi trasparenti e discussi del Governo e questo lo si fa nel momento in cui diciamo così viene compiuta una scelta nella direzione della pubblicizzazione e nazionalizzazione chiara ed evidente uno dei problemi che invece oggi abbiamo è proprio questo cioè che apparentemente abbiamo degli istituti privati o una banca privata rispetto alla quale poi ci sono gli interventi a politica ma che non passano attraverso i luoghi trasparenti con indirizzi trasparenti ma passano in spazi diversi luoghi diversi con pressioni diverse quindi ribadisco io penso che il nostro compito sia essenzialmente politico e quindi il compito politico è quello di dare un giudizio politico il mio giudizio politico il nostro giudizio politico sicuramente il mio è quello che oggi siamo diciamo forse l'ultimo momento possibile per correggere la rotta ci sono delle strade possibili rispetto a MPS a partire da quello della nazionalizzazione ci sarebbe poi la necessità di come dire qui si fare una riforma sistemica la riforma sistemica significa dividere appunto le banche d'affari dalle banche retail significa rendere la banca d'italia un istituto effettivamente pubblico cioè andare in quelle direzioni ma ripeto probabilmente dobbiamo anche andare per gradi e per passi diversi certamente oggi l'emergenza è quella di salvare Monte dei Paschi io cercherò di non torturarvi ulteriormente e vado e vado a spot cercando e concedetemelo di partire da un gesto assolutamente improprio l'autocitazione Monte dei Paschi di Siena la banca fondata nel 1472 è scritto su tutte le insegne delle filiali che si trovano in ogni angolo della nostra regione la vicenda che riguarda la gestione della banca in particolare degli ultimi vent'anni la storia di una città che si è identificata per secoli con la sua banca la politica e la posseduta da sempre la presunzione del potere nell'era dell'era contemporanea l'avventurismo e la dissoluzione di un patrimonio enorme i grandi interessi locali e internazionali spesso sconosciuti forse oscuri e poi l'impatto nell'economia toscana e italiana nella crisi di una grande banca della più grave crisi economica e finanziaria che si sia conosciuta un cocktail esplosivo le cui responsabilità saranno decretate dalle sentenze dei tribunali e più probabilmente dalla storia storia che non è ancora finita con il travaglio e la fragilità attuali alla ricerca di soluzioni che rimettano in pista con presupposti diversi l'azienda più importante della Toscana condensato in queste dieci righe c'è il nostro giudizio che non è affatto tenero che è severo molto più asciutto abbiamo un po' scherzato su questa storia dell'affidare alla cinematografia lo sviluppo del racconto che viene in qualche modo desunto dalla lettura delle numerose pagine aggiuntive dell'altra relazione abbiamo un po' scherzato anche in commissione e io l'ho fatto con un piccolo gesto togliendo nel resoconto finale di tutti gli incarichi Presidente di Consiglio dal 2006 dal 95 quando è che si è fatto dal 95 in poi fino ai giorni nostri Presidente della Repubblica Governatore della Banca Italia ho tolto il Papa un po' perché si sa quali sono stati i Papi negli ultimi 30 anni ma anche perché diciamo il complotto catto giudaico massonico perfetto potrà anche esserci stato ma non è compito il Consiglio regionale accertarlo cioè fare il nostro mestiere bene a nostro avviso è quello di denunciare con forza raccogliere compilare ciò che abbiamo ascoltato raccolto da documentazione riscritto e che questa attività di compilazione potesse servire utilmente a concludere con un giudizio politico su ciò che è avvenuto per farne tesoro per quello che noi soprattutto noi possiamo fare da qui questa era la chiave di lettura di una relazione quella del PD che a mio avviso ha l'importanza di essere stata presentata separatamente perché era giusto che a farlo fosse il PD assumendosi direttamente senza nascondersi e nemmeno senza sciogliersi nei pari degli altri affermasse affermasse con forza la responsabilità della sinistra e del Partito Democratico rispetto a questa vicenda indubbiamente l'intreccio tra politica e banca hanno causato effetti devastanti un disastro per usare un altro sostantivo che si aggiunge al terremoto e allo scandalo che abbiamo che sono stati usati in precedenza un disastro vero e proprio che ha dilapidato un patrimonio enorme costruito nei secoli difeso con forza sempre c'è un passo straordinario nella storia del Monte dei Paschi quando si racconta durante il fascismo la volontà di Mussolini di poi arrivare alla riforma del sistema bancario e i fascistissimi podestà del tempo addirittura si rimettono e si ribellano alla volontà di esproprio dalla città di Siena della loro banca e quindi una situazione che meritava da parte nostra di assumersi la responsabilità che è giusto che ci sia ci sono stati grandi errori grandi errori non solo del PD o di chi ha governato Siena perché giustamente è stato ricordato la vicenda è molto consociativa perché non ha riguardato soltanto i senesi o le classi dirigenti senesi perché c'è sicuramente un intreccio anche con i livelli nazionali e quindi era giusto che questo venisse affermato così come però dobbiamo riconoscerlo non abbiamo scoperto nulla di nuovo non c'è nulla di inedito abbiamo semplicemente raccolto ciò che è già stato scritto in libri raccolto in dossier in reportage articoli di stampa rassegne stampa consistenti documenti azioni giudiziarie noi abbiamo avuto il merito e questo però va riconosciuto alla commissione di aver diligentemente raccolto queste informazioni che ci permettono oggi di fare per la prima volta in consiglio regionale una valutazione e questo per la prima volta l'ho sottolineato perché la commissione è stata istituita con l'intento di verificare l'intreccio tra la regione toscana e il Monte dei Paschi ovviamente trattandosi di un tema così vasto un oceano di argomenti abbiamo divagato ma su quel punto la risposta è non c'è non c'è alcun intreccio non c'è stata alcuna dipendenza o l'influenza addirittura da parte della regione o della politica regionale sulla sulla banca e sulle vicende bancarie delle scelte del Monte dei Paschi e questo ha detto bene fattori ma l'ho scritto io nella mia relazione è una precisa responsabilità della della regione e di chi ha governato la regione perché avrebbe potuto intervenire cercando di curvare una realtà e un andamento delle cose che portavano a questo disastro questo non non è avvenuto non solo si è anche sbagliato a non venire a raccontare il perché in commissione io penso che nessuno abbia da nascondere nulla certo quando si è provocati anche sui social si può avere qualche reazione immediata ma rispondere a un invito forse era anzi tolgo il forse era necessario lo scriviamo anche questo nella relazione perché è giusto essere trasparenti da ogni punto di vista e veniamo alla questione delle responsabilità noi abbiamo nelle conclusioni individuato responsabilità personali sono le più grandi le più importanti non solo incompetenza ma qui c'è perversione la gravità del delitto lo determineranno i tribunali ma non c'è dubbio che ci sono state responsabilità personali che hanno riguardato i colori quali hanno avuto responsabilità nella banca che hanno avuto responsabilità nella fondazione in generale nella politica ma anche negli organi di controllo perché è evidente che non si compra una banca così grande senza avere qualche elemento di garanzia sufficiente sufficientemente approfondito ci sono state responsabilità politiche che naturalmente devono essere attribuite a chi maggiormente ha avuto le eredini del governo locale e nazionale e quindi a seconda delle differenti maggioranze nazionali questo si è consumato singolare per attribuire tutto al PD perché è talmente anomala la vicenda di Siena e del Monte dei Paschi di Siena che il PD a differenza del resto d'Italia non si è creato nel 2007 lì si sono conservati i gruppi separati di S e Margherita fino a nuove elezioni nemmeno il PD è riuscito ad entrare fino in fondo nelle vicende di quegli anni che hanno poi causato tutto quanto per dire che cosa per attribuire la giusta dose alle questioni locali anche di responsabilità e c'è una parte un ancoraggio forte al locale e una missione internazionale del soggetto economico questo cortocircuito a un certo punto ha infiammato ha incendiato questo grande patrimonio e allora se vogliamo avere anche un giudizio storico che non è soltanto un giudizio di parte noi dobbiamo sapere dov'è che a un certo punto questa responsabilità politica si esercita in questo modo e dà avvio a questa storia e non c'è dubbio è stato rilamato da tanti altri non c'è dubbio che il punto di snodo è la riforma bancaria e l'elezione diretta del sindaco fino a quel momento la banca era governata dalla politica con il sistema del associativismo da una parte del pentapartito a livello nazionale dall'altra comunisti e socialisti locali che governavano la città questo confronto determinava questo confronto determinava soluzioni che di volta in volta si assestavano l'elezione diretta del sindaco e la rivendicazione sulla deroga sostanziale del mantenimento del controllo della fondazione sulla banca hanno determinato tutto il resto questa era che nasce con Piccini sindaco e che determina questa battaglia scritta su tutte le pagine dei giornali in quegli anni ha determinato questa perversione questo forte controllo della politica un forte controllo che era di tutta una politica anche recente basta prendere i programmi elettorali del 2011 di Siena e tutte le forze politiche si presentavano alle elezioni amministrative mettevano al primo punto la conservazione del 51% del controllo quindi della quota di controllo della fondazione sulla banca chi è che a un certo punto tardissimo si accorge che questo è stato un grande errore perché poteva liberarsi questa missione internazionale della banca con il rischio anche di perdere l'identità l'ancora su Siena con rischi che potevano esserci ma sicuramente non quello di perdere il grande patrimonio che la fondazione ha dimostrato di poter avere perché ha distribuito masse di risorse per dieci anni incredibili in tutto il territorio non solo senese anche grossetano anche toscano di una dimensione irripetibile in qualsiasi altra parte del mondo ecco tutto questo è avvenuto per questa ostinazione solo gli atti di indirizzo della provincia del comune troppo tardivi degli ultimi anni proprio dopo quelle elezioni del 2011 hanno aperto un'altra fase hanno permesso la discontinuità hanno permesso la vicenda della presidenza della fondazione Manzi che ha salvato almeno la fondazione e ha permesso una strategia di intervento per il salvataggio del Monte dei Paschi e ha portato ai nostri giorni quella vicenda politica inizia di lì non va puntato il dito contro i senesi va puntato il dito contro chi non ha saputo interpretare in quegli anni bene il potere che gli veniva attribuito e la lotta di potere a Siena si è consumata non sul punto di contenuto ma su chi riusciva ad interpretare meglio questa difesa strenua del controllo della banca la vicenda Anton Veneto è stato detto molto bene una vicenda tremenda fra l'altro dovuta anche al cambio di management perché c'è un passaggio altrettanto storico importante non così importante dal punto di vista dei conti della banca ma importante dal punto di vista del cambio della qualità e dell'approccio della dirigenza che è l'acquisizione di banca 121 banca 121 non è un danno così grave al patrimonio ma introduce un sistema diverso innesca metodologie e approcci diversi alla banca che portano a costruire questi castelli di carta su cui poi è franato tutto il resto allora si diceva discontinuità tardiva indubbiamente ma anche di questo anche il dibattito attuale non riguarda tutte le forze politiche anche il dibattito attuale alcune forze politiche stanno ancora rivendicando il ritorno al passato a quello che ha determinato questo elemento di difficoltà e di crisi e se vogliamo dare essere onesti fino in fondo con questo giudizio storico non è possibile oggi dare spazio a quelle valutazioni che guardano ad un ritorno al passato ecco perché su questo è bene concentrarsi e noi abbiamo fatto le conclusioni in questo tentativo perché insomma non siamo a esprimere sentenze noi dovremmo addirittura provare a creare condizioni per trovare soluzioni sapendo che siamo la Toscana e il mondo è un po' più grande di noi e però quel pezzettino che dalla Toscana possiamo fare per migliorare il mondo forse è bene farlo allora noi mettiamo al centro del nostro della discussione che considero già e da qui in avanti da quando andrà in consiglio in poi il fatto che noi abbiamo goduto della presenza di una grande banca nella nostra realtà e che l'unico modo per vedere se questa si salva è affidare davvero le sue sorti al mercato alla capacità cioè di risollevarsi se ci crediamo dobbiamo crederci fino in fondo nel mercato una grande banca che a tutt'oggi è la prima azienda privata della regione di cui non possiamo e quindi dobbiamo interessarcene quante volte in consiglio regionale portiamo mozioni che chiedono di occuparci di crisi aziendali ben più contenute di qualche decina di persone rispetto ai 27.000 dipendenti che ha questa che ha questa impresa toscana perché ha consentito di avere alla Toscana all'industria toscana un soggetto economico che l'ha accompagnata basta vedere quel poco che si sa almeno noi dei crediti deteriorati che sono spesso vengono descritti come una parte significativa di finanziamento di affari a pochi per le loro dimensioni si dice che sia questo volume di questa banca globale un'aliquota importante quella della Toscana la Toscana è un fronte del mercato globale servito dal Monte dei Paschi l'ho detto prima è la Toscana ma questa incidenza anche lì dentro dimostra come l'accesso al credito per i toscani è stato facilitato e ha creato le condizioni perché si accompagnasse l'industria toscana e la Toscana ad essere la quarta regione industriale dell'Italia che ha consentito ad essere ai toscani dei solidi risparmiatori capaci di investire nel loro futuro capaci quindi di essere ciò che noi siamo senza la Monte dei Paschi non dobbiamo porci il problema di come possiamo essere accompagnati dal sistema del credito adeguatamente partendo proprio da una riflessione sulla fili toscana perché è l'unica sintesi di tutto il sistema bancario presente perché è presente lì in quel capitale giusto riflettere su questo ma io penso che sia giusto riflettere anche di avere un rapporto con l'intero sistema bancario chiaramente diverso per quello che sarà la realtà che verrà fuori dalla vicenda anche del Monte dei Paschi per come è condizionante ultimissima considerazione sempre di carattere conclusivo nella nostra relazione dobbiamo pensare anche di più a Siena Siena per tutti questi anni non ha avuto bisogno della regione Siena era indipendente autonoma completamente autosufficiente Siena addirittura poteva intervenire per aiutare tante altre realtà toscane Siena difficilmente aveva ruolo significativo oppure ha potuto godere di intervento pubblico da parte della regione per programmi di sviluppo realizzazioni grandi situazioni che in città sono presenti oggi non è così oggi Siena è una città come tutte le altre in Toscana e la regione deve questo considerarlo perché finora non ha dovuto farlo ecco su questo credo che si stagli di più il compito del Consiglio regionale e credo che insieme perché abbiamo dimostrato di saper lavorare anche bene insieme potremo farlo da posizioni diverse grazie collega Marras domande prego grazie a tutti voi identificate la politica con i partiti attenzione i partiti non sono citati neanche nella Costituzione un solo articolo che dice i cittadini possono non devono non sono obbligati e forse non sarebbe neanche opportuno organizzarsi in partiti per partecipare i cittadini non i partiti alla gestione democratica del paese e che questo succeda nella patria di Machiavelli abbastanza preoccupante la politica si deve occupare di tutto una domanda voglio sapere perché confondete la politica con i partiti questo voglio sapere basta mi immagino che si è rivolta a Marras chi è rivolta questa domanda soprattutto alla presentazione dei cittadini no 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 io non non no io grazie a un'inche allora guarda confondete la politica con i partiti la politica è sacra a partire ai cittadini e non deve essere confusa con i partiti grazie posso rispondere la domanda quindi è chiara perché si confonde mi sembra che l'audito perché ci siamo già visti noi in commissione si è fatto una domanda e si è data anche una risposta corretta bravo va bene diciamo con questa non risposta del PD io direi se ci sono altre domande bene allora vi ringrazio molto di essere stati qua con noi la relazione è immediatamente diffondibile andrà in aula nella prossima seduta come concordato nell'ufficio di programmazione grazie ancora grazie a tutti 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 grazie a tutti